eccoci sempre noi tornati tornati ed alt life 2 si ok c'ho l'esca buttiamolo contro il manichino e la ammazzatevi scannatelo scannatelo vedete qua all'attente e allora ho schiacciato questo testo ovviamente è l'attente vieni farmica farmichina secondo qua succede spalla vede sono il comandante adesso adesso possiamo andare ora segui attentamente esercita una pressione sul tuo veropodo per farti seguire la mia prima di tutto ma la mutanda è ancora niente vero? no fai schifo fai schifo ti ho detto mettete le mutande ok dai apri bene andiamo ciao amico ricordo delle mutande andiamo andiamo a fenomenare andiamo a fenomenare come si prendono le cose i feropodo 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 esca feropodo esca eppure c'è il caricamento eppure c'è il caricamento la versione 2.6.74523 della canzone nuova del caricamento qual è? non c'è giornata ancora non c'è giornata e poi l'ultima e l'aspetta e carica vieni ciccia 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 vede in uno è super ragazzi ciccia fumigna si stars viendo test ego un avere barura del conformi si v in rap ehm a e poi c'è loro io a a l'uomo 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 il attaccate bastardi uccideteli tutti attaccate attaccate distruggeteli david david al sacramento totale 4 il 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 l il 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 ok 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 avanti attaccate non fatevi rammollete aspettate attaccate là avanti ok 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 la volta che sparano attaccate 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 avanti non avete paura morite per l'odore dei cosi dei cicci a bravi bravi la nostra cazzo la regola scontenimento ecco la contenuta finché sei inascolto ah qua il contenimento ragazzi pronti all'attacco a dentro avanti Attacate! 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 trafficking ha... ha 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 though... ha ha ha... ueto, ueto... uke ooo... uke ooo! no, sto gioco è troppo piccolo ma è vero? bellissima è super adesso si sapeva ravigliato ah, che non sapeva che c'aveva commiche cocomeri qua cocomeri allarme allarme possibile nuova infezione anti cittadino 1 tutti i delegati alla stabilizzazione di 916 alle barricate tutte le barricate avanti siamo noi massacrateli massacrateli 9 fuori servizio giudice 3 promozione attiva promozione attiva i 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